che viene dato non solo in italiano ma anche in inglese, in lingua russa e ucraina. Ma a proposito di comunicazione, Gian, ti leggo anche questo, perché il presidente ucraino Zelensky ha fatto appello agli ebrei di tutto il mondo perché non restino in silenzio di fronte all'attacco russo. Mi sto rivolgendo ora agli ebrei del mondo. Non vedete quello che sta succedendo, per questo è importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora, ricordando come il nazismo è nato nel silenzio. Quindi gridate la morte dei civili, gridate per la morte degli ucraini. Ha appunto esortato Zelensky egli stesso di famiglia ebraica. Ieri ricordiamo che il razzo ha colpito la torre della TVA.